Paul Morgan vuole a tutti i costi salvare il suo matrimonio. Forse questa è l'occasione buona. Sei un nevoletto con un'altra. Mi dispiace. E a volte la fortuna può arrivare dall'alto. Il tizio è ancora in circolazione. Devo chiedervi di entrare nel programma di protezione. Che cosa? Benvenuti nel Wyoming. Forse c'è un orso dietro di te. Parlate in pano amichevole. Felice di conoscere. Oh, che gioco! Oddio, che dolore! Ho perso il cavallo! Per Venerdì Cinema, che fine hanno fatto i Morgan? Venerdì alle 21 in prima visione, su cielo!